La guglia è un pesce bellissimo, è un'esca fantastica. Pescarlo è abbastanza semplice, però è molto delicata e deve essere maneggiato con cura. Una volta catturata si può innescare per pescare i predatori, che se ci sono non tarderanno ad abboccare. È il caso di questo pesce serra, che ha mangiato con vorancità all'esca, ma che sono riuscito a recuperare senza troppa difficoltà.